L'Alzheimer è una grave malattia che colpisce circa 40 milioni di persone al mondo. In Toscana sono oltre 80.000 le persone affette da demenza, tra cui 1.500 ad esordio precoce. Per affrontare una patologia come l'Alzheimer, hanno detto gli assessori regionali al diritto alla salute, Bezzini, alle politiche sociali, Spinelli, è necessario avere a disposizione una rete di servizi e di funzioni sociali e sanitari appositi. Le attività finanziate con il Fondo Nazionale a partire dal 2020 si sono concluse lo scorso maggio. Nonostante la legge di bilancio 2024 preveda uno stanziamento di circa 35 milioni per il triennio 2024-2026, non è ancora stato approvato il decreto attuativo. Le regioni non hanno quindi ancora ricevuto le risorse previste. Chiediamo con forza al Governo che l'aggiornamento del Piano Nazionale Demenze, su cui l'Istituto Superiore di Sanità, con il contributo di tutti sta lavorando, sia per la prima volta accompagnato ad un adeguato finanziamento inserito strutturalmente all'interno della legge di bilancio.